Mister, l'Avezzano torna alla vittoria dopo due giornate in cui il pari sicuramente era stretto. Una vittoria arrivata nei minuti proprio finali di una partita combattuta da entrambe le parti. Sì, sì, no, sono d'accordo. Non fa una piega che il risultato finale poteva anche finire 0-0. Perché le due squadre si sono battagliate, perché le due squadre si sono annullate e perché le due fasi difensive avevano fatto molto meglio dei reparti offensivi. È chiaro che sapevo benissimo che potevamo sbloccare questa gara su un palla sporca e a posto ho inserito Oxa che è un giocatore molto strutturato e molto fisico sia perché mi aiutava a stare sereno in area di rigore perché loro avevano messo le torri gli ultimi 20 minuti e soprattutto potevamo usufruire anche di un compagno su palla aerea insieme a Dos Santos che poteva sfruttare qualche palla sporca. Così è stato, però ripeto, è stato un derby bellissimo. Faccio i complimenti alle due tifoserie. È stata beffata alla fine ed è peccato. È un peccato perché non puoi neanche dire sull'attenzione perché c'è stato un piazzato, uno la svirgolata e la palla si è ritrovata là davanti. Il portiere non poteva fare nulla, magari come ha fatto domenica, poteva attirci la pezza ma non c'è nessuna colpa il portiere. La squadra ha giocato bene, ha tenuto bene il campo, quindi avevamo tante difficoltà e questo dispiace. Noi dobbiamo come sempre onorare come abbiamo fatto oggi, tra i risultati finali, dobbiamo onorare sempre la maglia, cercare sempre di fare il massimo. Per noi sono tutte finali e come ho detto prima, questa è la nostra quinta partita che facciamo nelle ultime sette partite fuori casa. quindi adesso può darsi e arriverà qualche partita più in casa e quindi magari anche davanti al nostro pubblico cercare di fare qualcosa in più.